Il gioco d'azzardo rappresenta un pericolo gravissimo per le nostre comunità e il problema è diventato ancora più preoccupante durante i due anni di limitazioni determinati dalla pandemia da Covid-19. Oggi però bisogna intervenire con decisione e per farlo è necessario coinvolgere le pubbliche amministrazioni, così come l'autorità giudiziaria e presidi affidabili per la famiglia come la Chiesa. L'argomento è stato affrontato a mesanni e nel corso di un dibattito organizzato da Avviso Pubblico e dall'amministrazione comunale. Il tutto alla presenza del Vice Presidente di Avviso Pubblico Michele Abaticchio, del Procuratore della Repubblica Antonio De Donno e dell'autrice del libro La Pandemia d'azzardo Giulia Mignieco. Assessore, ludopatia rappresenta un vero dramma per la nostra società, si avverte anche nei nostri comuni, come si può intervenire? Sì, assolutamente sì, ormai è un problema sociale che riguarda anche il nostro territorio, anche Mesagne, la nostra città. È un grido di allarme dal punto di vista sociale perché ci sono intere famiglie che dilapitano patrimoni, si vedono dilapitare patrimoni da un giorno all'altro. È un problema sanitario perché la spesa per curare coloro che soffrono di patologia, da gioco d'azzardo è alta anche in questo territorio ed è un problema anche legato alla legalità perché ovviamente le infiltrazioni della criminalità organizzata soprattutto nel sistema del gioco illegale online è ormai evidenza. Che cosa possiamo fare? Intanto i comuni devono fare quello che la legge regionale impone da un po' di anni ma che pochi comuni fanno, sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto fare rete. I servizi ci sono, anche la ASL di Brindisi in questi anni post pandemici, ha messo in piedi un servizio che si occupa proprio di curare i malati da gioco d'azzardo. È poco conosciuto, bisogna fare rete con il territorio, con le associazioni, con le parrocchie che spesso sono il primo punto di riferimento delle famiglie, dei giocatori patologici e con i servizi sociali comunali che sono l'altra ancora di salvezza per tante famiglie, anche soltanto per chiedere un aiuto dal punto di vista economico quando ormai non si hanno più i soldi neanche per fare la spesa.